Quello che stai provando ora è quello che provi, capito? Lasciati andare. Io non penso che sia... Non devi pensare adesso, Connor. È tuo figlio. Devi rispettare la sua autonomia. E lasciarli elaborare quanto il superare questo limite influisca sul suo codice morale. Voglio il bastone! Il bastone? Dov'è? Jack, come va Nate a scuola? Bene, sì, sta migliorando. E come se la cava il tuo? Alla grande, tutto perfetto. Sì? Dai, è bello, io...